Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Fammi salvare. Sì, salvami tutto, baby. I like it like this, yeah. Come no? Perché no? Cosa no, Simone? Simone? Ehi, perché no? Non dirmi così, Simone, mi ferisci? Perché no? Ma come è un sabato? Sì, lo sapete, che pezzi di merda. Eh sì, è lo gelatino. E la gelatina, non ho mai sentito sta roba. Comunque, poi l'olio e basta, perfetto. Strumenti, cestello e un bambù per la cattura a vapore. E ce l'abbiamo. Raga, questo l'ho mai usato in vitamina, così come anche il lievito. Quindi vediamo che cosa succede, eh. Allora, il primo passo. Versare il latte, il lievito, i 125 grammi di farina, il salo, zucchero o in una ciotola e mescolare bene. Aspe. Yes. Versare il latte. Ehi! Funciona? Funciona tutto? Amore! Mi sono cagato in mano! Amore! Amore scusa! Dio, una cosa inevitabile! Mario hanno venduto screener! Cracco, non fributare! Oscuragli la faccia! Da una puntata di iene! Mario sei troppo sexy! Come mai ridono? Come mai ridono? Che ridevi ragazzi? Ragazzi! Ragazzi che cazzo! Fa troppo c***o la censura a caso! Ah, mi sta bippando! Madonna! Comunque è impossibile! Aspetta, proviamo a correre! Aspetta! Ditemi via! Ditemi via! Ditemi via! Festa! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non credo, però... Che è successo? Comunque, io ti parlo in questo... Anche io posso alitare come te i video. Anche tu, aspetta, aspetta. Anche io, anche io, aspetta. Hai ragà, ragà, hai ragà. Hai pati! Eccoci! 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 Sono io, voglia dita, proprio io! Sono io! Sono sempre stata qua, non me ne sono andata, ragà! Questa è la mia felpa tipica! Questo? Com'è? Ah, ovviamente poi chiamiamo di nuovo la nostra ospita, che mi sembra brutto farla restare... Aspetta, che la vado a chiamare, scusatemi, ragà, la vado a chiamare. Toc toc! Puoi entrare, eh, tranquilla, entra, entra pure! Ok, ok, vabbè. Aspetta che... Eccoci, così. È frizzata? Possibile che sia frizzata? Come mi sono frizzata? No! Oh no! È frizzata! Ah, perché mi hai ridotto icona, mi hai ridotto icona, non devi ridurmi icona. Lasciami. Scusami, scusami, ti riprendo, ti riprendo. Non ti ridurrò mai più. Eccoti, eccoti, eccoti. È entrata. Sono! Eccola, eccola, sì, c'è. Vieni, vieni pure, scusa, non l'ho lasciata per te, vieni pure. Arrivo, arrivo. Vieni pure, fammi, fammi... Vieni pure! Eccoci. Oh mia mia! Perché sei così... Daie! È stata una serata abbastanza particolare, ovviamente voghelita in tutto. È la seconda volta che la vedo perché l'ho vista ieri e me l'avete mandata. Grazie mille, Giammo, per il... Mario! Scusa. E... No, è benissimo. Vai avanti con il VAT cosa riteci dopo? Non lo so, io ho questa clip qua e basta. E... E poi i coppini, chi si ricorda i coppini che riscattavate? Poi sono arrivati i Cogito Studios. E i Cogito Studios sono... Per sapere perché... Ci sono questi ambienti. Alcuni hanno cercato Alcuni hanno cercato però Ci mancano 10 minuti E non ce la facciamo C'è una sorta di live air Dove appunto Vi metto la GoPro e vediamo Se la sua POV Aspetta Come è stato? Bello vero raga? Minchia è bello no? Bello bello Fico figo Fico figo figo Molto particolare Distruttivo Divertente Cringe al punto giusto Guarda qua Visto c'è anche il corpo adesso Adesso aspetta aspetta Raga In tutto questo In tutto questo Vorrei giusto dirvi un paio di cosine Giusto un paio di cosine Eh? Eh? Anzitutto basta guardare i tetta là La brutta merda Eh? Seconda cosa Punto schermativo sub Punto schermativo prime Terza cosa Basta Trattatemi bene Visto quanto i content vi do io Eh? E che invitiamo i cosi carini E facciamo tutte le interviste Nebelline Facciamo i vtuber Eh? Non apprezzate niente Quindi un paio di rispetto Per lo streamer Eh? Aspetta Che non ci sono più di L'ho trovato svenuto così La droga Le prostitute Visto che qui ne mi hanno fatto fare il mio cane È morto È strafatto Raga Eren Eren quante rito sono queste? Eren zampa Cioè questo qua appunto riso sushi barra riso Roma no? Ma perché non lo fanno già 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 fatto? Prova con la chiave croma Con la chiave croma è più facile E la chiave croma ti ha sputtanato? Eh sì Eh così l'ho aggiunta io Esatto Devi fare questo Devi aggiustare la somiglianza Devi metterla Ah che era giusto Sì era giusto Ok allora scusate Mi ho sbagliato io raga Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Aspetta che rimetto tutto Che se no Consolati così Insegnaci qualcosa che tu sai Che noi non sappiamo Che so fare Voi no Che so fare